Noi abbiamo come unire il tifoso da stadio, la squadra, la lega, con il tifoso che oggi usa molto la tecnologia, ma non la tecnologia solo come strumento di comunicazione, quindi il telefono o il tablet, ma anche la tecnologia come gioco, quindi i giochi elettronici spesso molto legati al calcio, senza fare nomi, quindi molto interessante l'intervento di dire cerchiamo di linkare di un stadio reale, tifoso da stadio a tifoso a cui piace il calcio anche in forma di gioco, di entertainment virtuale, quindi questa è una delle tante tematiche affrontate oggi, perché noi questa è una frontiera particolarmente sfidante, cioè noi dobbiamo portare dentro lo stadio, anche colui il calcio in questo momento lo sta masticando soprattutto da casa, davanti a un televisore, davanti a un tablet, guardando delle partite dal vivo oppure giocando delle partite attraverso i giochi elettronici.